5, 4, 3, 2, 1, 0, via! E' partita la gara! L'anno scorso ci fu un arrivo molto sappiato che è entrato molto all'ultimo sangue non si può dire perché è pericoloso insomma E' partita la gara, ci sarà un giro nella fantastica Villa Torlonia quindi gli altri li stanno affrontando